Diffondere la conoscenza delle politiche Smart City per lo sviluppo dell'efficienza energetica nelle realtà produttive italiane. Questo è l'obiettivo dell'accordo tra Fondazione Torino Smart City e EDF Fenice, primario attore internazionale nella sostenibilità ambientale dei grandi siti industriali. Sfruttando le potenzialità offerte da nuove tecnologie, innovazione dei processi, digitalizzazione e accessibilità dei servizi, è infatti possibile mettere in campo strategie e progetti per rendere le aree industriali più virtuose e sostenibili, con ricadute positive sull'intera area metropolitana. È un accordo importante quello che si sottoscrive tra la Fondazione Torino Smart City e il gruppo EDF. Fino adesso ci siamo concentrati molto sull'efficienza energetica del patrimonio pubblico e privato dei residenti delle nostre città, cercando di migliorare le performance, le prestazioni energetiche degli immobili del nostro territorio. Grazie al supporto competente di EDF abbiamo voluto estendere questa nostra attività, focalizzandoci sulle attività economiche e produttive del nostro territorio, in particolare cercando di mettere sotto la lente di ingrandimento le cosiddette fabbriche che vogliamo siano intelligenti, quindi che siano capaci di migliorare le proprie performance energetiche, migliorare il proprio sistema produttivo, cercando naturalmente anche di impattare meno sull'ambiente circostante, quindi migliorando le condizioni ambientali sia di chi vive all'interno di quei contesti, che quindi ci lavora e soprattutto per il territorio circostante. Noi siamo specialisti della tecnologia, investiamo nei asset dell'industria in ordine di fare dell'economia di energia e anche ci occupiamo dell'ambiente, abbiamo ingegneri che si sviluppano sul campo industriale per ridurre le emissioni, per ridurre la polluzione. Per rinforzare le competenze del progetto Torino Smart City, EDF Fenice mette a disposizione attività, conoscenze e relazioni del proprio hub, l'Energy Efficiency Campus. Questo campus è un'iniziativa assolutamente innovativa, noi riteniamo, è un hub di interscambio culturale che vuole coinvolgere tutte le parti che in qualche modo concorrono a fare dell'efficienza energetica una leva di sviluppo per le nostre imprese e con questo campus noi intendiamo creare delle sinergie tra la parte pubblica, l'amministrazione, tra la parte del mondo finanziario e tutta la parte industriale che in qualche modo può contribuire a migliorare i consumi energetici e quindi ridurre le contaminazioni verso l'esterno.